Ciao a tutti e benvenuti da Alessandro Zamboni, online marketer da 12 anni negli Stati Uniti e da 2 anni in Italia, oggi sono qua per fare una testimonianza video per il corso vendita telefonica d'assalto che sono stato uno dei primi ad acquistare, così come altri prodotti di Big Look, questa volta devo ringraziare anche Cicchinelli che ha registrato il corso perché è un corso veramente eccezionale, è un qualcosa che tutti gli online marketer e tutti coloro che hanno una ditta sia individuale che una ditta grossa dovrebbero avere, però proprio perché vi dà le basi per aprire un team telefonico e oramai il team telefonico non è più un optional, un qualcosa che potete avere o non potete avere, è un qualcosa davvero essenziale che vi serve per progredire, se voi non mettete il team telefonico rimanete ancorati al passato e perderete un sacco di vendite, era da circa un annetto che volevo inserire il team telefonico nella mia ditta, però avevo delle lacune, dei problemi, delle cose che non riuscivo a trovare e invece questo corso mi ha dato tutte le risposte, chiaramente dal primo all'ultimo video, ci sono mi sembra ben più di 80 video, quindi il Cicchinelli ha fatto un lavoro epico, sia nel darvi tutti gli ingredienti che servono per aprire un team telefonico se siete dei proprietari d'azienda, sia nel diventare invece telefonisti se volete lavorare presso un'azienda o una ditta, quindi entrambi i lati sono coperti dal corso ed è qualcosa di veramente sensazionale, mancano pochi giorni alla chiusura del prezzo di lancio, io non perderei l'occasione se fossi voi, non rimarrei indietro, prendete il corso perché vale veramente tanto, molto più del prezzo che viene richiesto, ok? Grazie, ciao a tutti da Alessandro Zamboni